La regione siciliana ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza per i danni provocati dal maltempo a settembre e ottobre in numerose zone dell'isola. Un prevedimento che, come ha spiegato il presidente della regione Renato Schifani, mira a velocizzare le procedure burocratiche per attivare eventuali interventi di messa in sicurezza. Numerosi comuni di tutta la Sicilia interessati. Per quanto riguarda la provincia di Caltanissetta, l'unico centro in cui verranno svolti eventuali interventi è quello di Niscemi. Una decina invece i comuni sia della provincia di Trapani che di quella di Agrigento che necessitano di particolari interventi, visto che si tratta delle zone più colpite dalle piogge che si sono abbattute sulla Sicilia tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. Una situazione anomala, come ha sottolineato il capo della protezione civile della presidenza della regione Salvo Cogina, con valori di pioggia che hanno superato i 100 mm e che hanno finito per avere forti ripercussioni anche sulle infrastrutture. Infrastrutture che, va detto, in alcune zone palesano problemi strutturali da anni. La speranza dei cittadini è che vengano messi in atto interventi di manutenzione e anche di realizzazione di nuove ed efficienti strutture. L'inverno d'altronde è alle porte.